Noi siamo innovativi già dal secolo scorso, quindi la famiglia è tradizionalmente innovativa. Non è russale perché uno dice Sella, questi sono qui da 400 anni, c'era Quintino Sella, com'è possibile che proprio loro siano innovativi? La nostra convinzione è che la tradizione non sia antitentica all'innovazione, anzi, non puoi avere tradizione se non sei capace di innovare. Poi abbiamo una vocazione proprio familiare, mio fratello Pietro, che è il capo del gruppo, è veramente una persona che trasluda, se posso dire, innovazione. Siamo stati i primi a far comprare un'azione su internet e abbiamo tanti primati, quindi speriamo di continuare a portare il nostro contributo in termini innovativi. Ma anche, scusi, in ambito territoriale, perché era l'attività che mi dicevo, innovativi sì, ma qui in Sicilia per restarci, siamo qui da 30 anni per restarci a 300 anni in modo tradizionale.